C'è anche Arezzo, tra le città in cui gli uomini della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a quanto disposto dalla procura di fermo nell'ambito di un'indagine che ha riguardato i fondi dei super bonus edilizi. Gli inquirenti hanno ipotizzato una frode portata a termine tramite delle intestazioni societarie fittizie e fatture per operazioni inesistenti. I proventi, considerati illeciti, sarebbero stati autorriciclati nell'acquisto di beni immobili e mobili. Colui che si ritiene sia stato il vertice si trova in carcere mentre si trova agli arresti domiciliari un professionista. Altre quattro persone hanno l'obbligo di presenza alla Polizia Giudiziaria. Sequestrati anche 3 milioni di crediti fiscali ritenuti inesistenti e ulteriori disponibilità per oltre 2 milioni di euro. 12 e le unità immobiliari a cui sono stati apposti i sigilli oltre ai contocorrenti e a diverse autovetture. La persona che si trova in carcere è ritenuta dagli inquirenti dall'alto spessore criminale residente da anni nel Fermano condannato in via definitiva per diversi reati tra cui l'estorsione, la detenzione illecita di armi, il sequestro di persona, lesioni e violenza privata. Tra i destinatari delle misure cautelari anche un ingegnere che si premurava di presentare all'Enea l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile le necessarie asseverazioni con informazioni ritenute false o attestazioni non veritiere sulla congruità delle spese.